Quasi 7 milioni di euro saranno investiti dall'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise e Giuseppe Caporale nei prossimi tre anni. E se 1,5 milioni di euro di questi fondi andrà alla realizzazione di strutture minori nella nuova sede di Cole Atterrato, quasi quattro saranno destinati all'implementazione dei servizi erogati attraverso il CED e le anagrafi, l'ultima delle quali proposta riguarderà l'igiene e la qualità degli alimenti. Sono alcuni degli interventi previsti dal piano triennale degli investimenti approvato dal CDA nell'Istituto Coaborale, che ha potuto pescare per 2,5 milioni da parte del disavanzo del 2013, tornato nella disponibilità dopo l'approvazione di tre bilanci bloccati, e per la restante parte del Fondo Sanitario Nazionale per i centri di eccellenza. Sulle banche dati sarà destinata la posta maggiore, 3,8 milioni destinati al centro elaborazione dati e finalizzati al sostegno delle attività commissionate dal Ministero della Salute alle anagrafi zootecniche e ai vari sistemi informativi nazionali realizzati negli anni. Serviranno a sostenere un settore trainante come quello dell'anagrafe nazionale zootecnica, che conta 30.000 utenti abilitati ad accedere ai servizi, 4.000 utenti diversi al giorno e oltre 50.000 transazioni quotidiane. Nel programma da qui al 2019 sono previsti interventi migliorativi della sicurezza degli ambienti di lavoro e per la completa operatività delle attività dei laboratori. In attesa della nuova sede, prevista non prima dei prossimi 4 anni, gli interventi di manutenzione non sono più differibili. 600.000 euro spalmati in 3 anni riguarderanno la certificazione antincendio della sede centrale di via Campo Boario, ai quali si aggiungono 120.000 euro per l'adeguamento dei locali di necroscopia, 325.000 per il miglioramento funzionale della viabilità interna e sistemazione della palazzina della sede centrale, mezzo milione di euro per la riqualificazione dell'unità stagna. Anche le sedi territoriali riceveranno messa a norma e verifiche di vulnerabilità sismica. 150.000 euro saranno spesi per Campobasso, altrettanti per Pescara, 60.000 per Isernia e 50.000 ad Avezzano. Capitolo nuova sede, infine. Entro il prossimo luglio sarà pronta la progettazione esecutiva. Entro l'anno sarà realizzato uno stabulario per piccoli animali che permetterà di trasferire a Coleatterrato le attività che insistono in Contrada Gattia.